Pug, che fine hai fatto? Se lo è chiesto il capogruppo di Italia Viva in Consiglio Comunale Nicola Cavallo, pronto ad accusare l'amministrazione e la maggioranza sui ritardi dell'atteso strumento tecnico. Atteso per davvero decenni di scontri e incontri, relazioni e studi. Ora, con gran parte del lavoro già svolto da commissioni e uffici, il piano urbanistico generale sarebbe quasi pronto, al netto di alcuni altri ennesimi ritardi su cui Cavallo è perplesso. Il Pug spiega Cavallo è stato misteriosamente bloccato nel cassetto con la scusa del Covid-19 con il rischio effettivo di far saltare i termini che portano la data del 31 maggio. A questo punto noi forze dell'opposizione ci chiediamo se il ritardo sia dovuto a dimenticanza o se non ci sia una volontà vera e propria di far saltare il banco volutamente a discapito della città. A Cavallo non risponde l'amministrazione ma il presidente del Consiglio Comunale, Domenico Attanasi, accusato dal Renziano di non aver convocato la conferenza dei capi gruppo propedeutica alla Prodo del Pug in Consiglio Comunale. La conferenza dei capi gruppo, spiega Attanasi, è stata già convocata e si terrà lunedì 18 maggio. Avvisate Cavallo, tuona il presidente che poi rilancia. L'argomento non è stato trattato nella scorsa seduta in videoconferenza ed è stato rimandato ad una successiva seduta in presenza dell'unanimità dei componenti della conferenza dei capi gruppo. Insomma, il Pug si farà, assicurano da Castello Imperiali e non resta che aspettare almeno un altro po'.